I ragazzini e puntano il dito sul pinocchietto davanti al fogone, no? Ah si? Sì, tantissimi. Tocca a tinto, tocca a tinto! Il mio lavoro è in tre posti, diciamo questo qua è il migliore, la atmosfera è incredibile, bellissima. Tutto come ho detto prima, la squadra, la compagnia, e dopo si lavora con soddisfazione, come ti ripeto, con 60 anni. Sto vivendo in un mondo giovanile, un mondo bello, bravi chi inventa questa associazione, diciamo, il ragazzo. Bellissimo, il lavoro. C'è il montare, costruire? Sì, allestimento, i giochi. E' quello che ti dà la maggior soddisfazione? Sì, tantissimo. Tantissimo, cominciando dal primo giorno all'ultimo, anche in fase del montaggio. Vedere la città senza auto è la cosa che mi rende più felice, nel senso che consegnare la città alle persone, ai bambini, alle bici, diciamo, comunque... Quella, quella che mi rende più felice, non ci sono. Grazie a tutti.